La Chiesa cresce perché attrae, grazie alla gioia dell'incontro con Gesù che si trasforma in annuncio. Così ha detto Papa Francesco alla Messa di Ringraziamento giovedì sera per la canonizzazione di Iosè de Ansheta, conosciuto come l'Apostolo del Brasile, divenuto santo il 3 aprile. L'Eucaristia è stata celebrata nella Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, nato nel 1534 nelle isole Canarie. De Ansheta è stato il sacerdote gesuita protagonista dell'annuncio del Vangelo tra gli Indios del Brasile. Considerato anche il fondatore delle città di San Paolo e Rio de Janeiro, De Ansheta pubblicò non solo la prima grammatica in tupi, la lingua di una tribù locale, ma anche preghiere e canti. Alla celebrazione erano presenti nove cardinali, una trentina di sacerdoti, tanti sacerdoti e fedeli, per lo più brasiliani.